è bellissimo senti ma te ci andresti mai a vivere a casa di un pirata che si sente un po solo ma ho letto che i pirati sono pericolosi che un po è vero ma hai letto anche che quando un pirata si innamora di qualcuno potrebbe anche morire per lui ho letto anche questa sì e cos'altro hai letto ma ho letto che che la cosa più bella per una ragazza è che un pirata la voglia vivere con lui e smetterai di lavorare in discoteca ma questo nel libro non c'era scritto perché magari te non l'hai letto fino in fondo però ho letto che che quando un pirata si innamora di una ragazza una bella ragazza non pone condizioni se te non leggevi tutti questi libri magari non mi piacevi neanche lo so stappiamo grazie al tesoro non riuscivi proprio a dormire no me la lavo da solo fino a quando sono ragazzo mio nonno mi diceva sempre che per essere felice nella vita bisogna fare ciò che ti riesce meglio e a me ciò che riesce meglio è lavarmi la becci lascio che viene a dormire va bene a me ciò che viene a dormire